Buongiorno ragazzi miei, guardate un po' che vi porto a sto giro The Sinking City Allora, vi ricordate quando io ho portato Call of Cthulhu E vi ho detto, oh è fighissimo, sono sparatorie, c'è di tutto Mondo aperto, ho detto, di tutto E poi in realtà, non è che fosse brutto quel gioco Però non era quello che mi aspettavo Perché infatti io, lo avevo confuso con questo Che si chiama The Sinking City E praticamente riprende l'atmosfere di Call of Cthulhu Ed è una figata, ho visto che sono sparatorie, investigazione, è una figata Quindi ragazzi, mi raccomando, supportate questa serie Dobbiamo arrivare a 500 leaks E vi porto una seconda parte, subito Vi porterò due video al giorno Quindi più velocemente arrivano i like Più velocemente arrivano i video successivi Mi raccomando ragazzi, non deludetemi Questa è una serie cazzuta Anche perché di questi tempi non è che ce ne siano tante di serie cazzute Quindi se volete che vi porti serie di questo tipo, belle Continuate a supportarle, altrimenti vi porterò Fortnite Con tutto ciò che ne consegue Facciamo una nuova partita Le divisioni della città di... Sì perché noi dovevamo praticamente andare a indagare in una città Siamo un investigatore È molto interessante questo gioco Sinceramente non pensavo di farlo Però alla fine, finalmente Mi ha contattato la software house e mi ha dato la chiave Quindi ho detto, sì lo faccio, subito! Probabilmente il video lo vedrete Questo video lo vedrete il 25 giugno Lo sto registrando giorni prima Allè, tutti pronti? Si comincia! Ciao! Allè, tutti pronti? Allè, tutti pronti? Allè, tutti pronti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo ragazzi, ma cosa non la posso prendere? No, comunque io so che ci sono scontri a fuoco, gli uvizi, so che sono armi, quindi ovviamente le cose dovranno precipitare, diciamo, affinché... Ah, perché cominciamo, tipo, a procurarci armi e cose del genere. Ok, ho controllato tutto. Ok, ho controllato tutto, tra della pistola, la pistola non la posso prendere, solo guardare. Ciao, bello. Ok, cosa manca, scusa? Ah, ecco, ok, ok, quindi quando mi fa trovare gli oggetti... Ok, quello non me lo fa guardare, però... No, non me lo fa guardare, quello, ok. Fatto! Ah, è senza spostato. Ma comunque già mi piace, anche di grafica è carino, mi piace, mi piace. Eh, mamma mia, che ecco più gentilezza. Eh, ah, per salire, ok. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes Vanderburg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, molto obbligato, Mr. Vanderburg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please, call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour. Though it is, it's most important. Attravering Oakmont is no easy task. Most maps I've found didn't mark it and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. It's unique geographical position. And the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Tell me about this flood. It began six months ago. Storms raged for several weeks. And the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it. Despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You said you know someone who can help me with my...problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to... Stand out from the crowd. Eh, cos'è vestito da pollo? I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already fed a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds...charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot. Or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. Eh, you're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Hmm, I'm mad at all. Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular. Its ways mysterious. No one will take you by the hand. So you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderburg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reef. No better moment for clarity than times of hardship. That's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No, no. The pleasure was mine, Mr. Reef. Oh, before you go. How can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Bene. Mi stai dimenticato di fare i complimenti per i vestiti. We'll meet again, Mr. Reef. Manage. Ok. Io credo comunque che sia... Madonna, guardate qua. Un piovrone gigante. Credo sia un mondo aperto comunque. Cioè, non so quanto aperto, ma... Porca di una puttana. Mondo aperto. Madonna! Ma... No, è un sogno, raga. È un sogno. Cioè, abbiamo un gioco con l'atmosfera di cuciullo, cuciullo, tutto, tutto. E la mappa di gioco è enorme, la possiamo visitare. Cioè, è il top, raga. È il top. È in più investigativo, cioè, che a me piace un molto, cioè. Porca di una scuola. Mi garba assai, sta cosa. Potrebbe durare parecchio, sto titolo, ma... Tanto io fino a luglio sto libero, nel senso che tanto... Deve uscire... Come si chiama? Wolfenstein. Quindi... Where's your robur on, huh? Titania? Quindi da lì, attento. Something with this helmet... Gives me chills. What's wrong with it? Ok. Toglio questo messaggio, mi chiamo Albert, e questo è il mio testamento. Voglio avvertirti, non andare nelle profite di Oakmore, c'è... Illegibile, non avrò mai dovuto farlo, sotto dove arrivare con la grado professore. Oppure per quello che diventerò, canta nel mio cervello dance e nel palco mi metto con gli occhi. Il ciclo continua, continua, ancora, 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 andrò. E la fine arriva, devo avertire tutti, devo dirlo al mio padre. Al mio padre. Illegibile, lui è qui. Ottimo. Ma scusa, questa cosa, quindi, cioè, non è che posso controverso, tu. Beh, vabbè, questo credo che ovviamente non lo posso mica prendere, quindi, va. Mi ha dato anche i punti, oh, oh. Questi qui? Non posso capire una macchina, perché gli occhi hanno preso il fischio di lavoro. Vuole catturare il mio di sgombro, signore. No, c'è... No, regà, veramente, ci sono strafelice, porca troie. Tu? Ti piace qui, newcomer? Beh, si usa. No, nessuno si riuscirà a fare oggi. Buono! Questa è una notizia che andrò felice. Dove ti amo, lo sto andando anch'io. Non lo so, regà, non lo so. Non posso entrare? Un indizio che aveva trovato, aspetta un attimo, trovo la nave, allora. Ah, ecco. Dovevo fare la foto. Tutti gli indizi trovati. Dai, è così. Dai, è così, dovevo fare la foto. Quindi quando c'è quel segno di un uccellino, neanche una macchina fotografica, vuol dire che dobbiamo scattare una foto, ottimo. Ora, andiamo a visita la città. Non so se andrà a caso, o andare dove mi ha detto lui. Oh, oh, merda. Che è lui, è il tipo che mi diceva. Non so se andrà. Che è un risultato. Non c'è nessuno tolge la porto fino a che il mio è trovato. E che è perfetto. Ahem. È scusatevi. Sei Robert Throgmorton? No, ma non interessi. Ti stai. È charsel Reade. I'm a private investigator, just arrived from Boston I was told you might be able to help me Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI Finding people is kind of my specialty Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat Says he was barely conscious, out of his mind Talking gibberish in some other language That he even tried to bite him And you don't believe him? Complete malarkey I know my Albert I raised him strong and smart The best of his kind It couldn't have been him Albert's disappearance is the work of Innsmouthers Mark my words I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers Those fish-faced freaks have overrun this city Since the police burned Innsmouth to the ground But now Those filthy migrants occupy half this damn city The port Grimheaven bay Salvation harbor The shells They are everywhere So they're just Refugees? Hardly They've taken work from local fishermen They stir and agitate against us The Throgmorden family We are the pillar of this community Not to mention that crime rates have skyrocketed Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble That's what I want to ask 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 But I've never met a man quite like you before That's because no man measures up to the Throgmorden lineage Proud and powerful blood flows through our veins My father united with a certain royal family Which has blessed all our offspring with these exquisite features I've never met you the man to speak to about visions Outbreaks of hysteria I'm trying to get to the bottom of it myself Another newcomer with another problem Yes, I know what you speak of Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing And no one in this Innsmouth, a ridden city Will do a damn thing But yes Let's talk about your dreams Mr. Throgmorden Let me help you I'm rather good at tracking down missing people I'll find Albert What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals Let's just say I tend to see things that others miss And anyway What have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get Vera You have a point newcomer Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider That is if you want to fit in It is a fascinating blend Vera means fine I was saying We have a deal I see Thank you I need to know more about what happened to Albert Tane Did you not listen at all? I already told you everything After leaving on the expedition Albert was found on the shore in a lifeboat This fisherman supposedly brought him to the house And then left to call me But when I arrived here My son was nowhere to be seen Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house I suggest you stop dawdling and go see for yourself Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye Who was standing right in front of it Ah Mentioned a lifeboat Is it still around? Yes Face the house Then to the left is a beach that borders a fence You'll find it there As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throckmorton It's time for me to get started Find my son, newcomer, and be quick about it Che figata Ah Mr. Throckmorton I found this in the lifeboat It looks like it's your son's will Give it to me Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition Bye Voilà Ok Ci siamo Non c'è risotto il caso, praticamente Qua non posso entrare Non fai qualcosa stupido, newcomer And keep your hands where I can see them Ho detto tutto che ho conosco Va bene Che gente scalza Comorca trale Vorrei leccarti i piedi, guarda Io voglio entrare qui dentro Vedete, lì Ma qui non posso arrampicarmi, però Peccato Mi ci fa proprio arrampicare Forse da lì è l'uscita, sicuramente Qui proprio non posso entrare Né Dalla porta principale non mi fa entrare Ma nessuno ha la chiave Ok Cioè un pochino Non vi ricorda Assalio ed il down poor Che figata Ok Ci siamo Qui sono indizi comunque Non vorrei definire i primi scontro a fuoco Beh, a parte pesci, pesci Ma sento Sentite il rumore Sentivo il rumore io Ah, oggi sono male Cioè un pochino E' un po' di frågor E potrebbe sfruttare Per rinforzare Non assolutamente Per rinforzare Per rinforzare E' un pochino A vero Cioè un pochino Cioè un pochino Ma qualcuno Potremmo scappare Ho giusto E' felicitoso Oggi Allora Ciao Ehi Poi Posso sentiremi? Ah Oh Oh Tutta la cuota Ma Cosa tu sei? Sì, sei il polizio? Ho già detto tutto. Non è bene, sono Charles Reed, private eye. Mr. Throgmorton ha invitato a me trovare il suo figlio. Oh, ok. Cosa vuoi? Voglio sapere cosa succede qui, ogni dettaglio. Non mi ricordo molto. Me, Paul, e Louis... Stavamo qui. Questo è il nostro casa. Barry fu fuori. Il suo negozio. Lì lui è tornato a portare il suo figlio. Lì lui è tornato a portare il suo figlio di Throgmorton. Lì era inconsciente. L'arrivo. Barry è tornato ancora per chiamare il suo figlio di Robert. L'arrivo. 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 Il suo figlio di chiacere, che mi chiama... L'arrivo. Ah... Abbiamo riusciti qui dopo la flutte. Ho lavorato sulla piazza, ma la piazza non è più riuscita, quindi ho cominciato a pescare. Era Adostarve. Oltre tutti gli altri ragazzi? Ah, c'è Paolo qui sul ponte. C'è Paolo con lui. Bari è fuori con Mr. Throgmorton. Lucky Rascal ha perduto tutto. E non ho capito di cui lui e il figlio di Throgmorton è arrivato. Ho cominciato a rispondere il peggio. Do you know how Paul died? I... Don't know. When I pulled myself together, he was already... Gone. Kaye ha mercato sui soul. Who is this Kaye you keep mentioning? Outside it shows some respect. Kaye is our lord. Our light. Our love. Sorry. I didn't know. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please. Detective? Sir? Tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or... Kaye? Did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here. So I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Bomba. What is it? 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 Five cards short of a full house. Oh, beautiful. What is it? A poker. I'm surprised they don't have someone's portrait here. What is it? I've never seen knives like this before. Masterful work. Seems like prohibition has not affected Oakmont too much. Oh, this is a family. Aspettate, Is there something? No, there's nothing. So that's what an N's Mouther looks like. I'm sorry. I don't know. I don't know. I don't know. Oh, I don't know the character. I don't know. Oh, my God. Nuovo l'aria in mezzo, Jim. Tutto chiaro. Tutto il tuo manteo. Tutto il mio. Un altro. È il suo. Trovai questo, manteo. Ti sento che ci sento. Ho fatto una cosa. Un'aggressione a sfondo razziale Sì! Rai! Cosa sta succedendo? Ok, vediamo cosa abbiamo qui Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sì! Rai! Quando Albert Throckmorton si riuscì, non era lui Si attacchi i pescari e la sua hysteria spiegò a loro Quando si è morto, si è fuori Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sto già iniziando vedete Ancredare la marcia Io non avevo tolato però Ciu 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 ciu, motherfucker Bene! Ma qualcosa mi posso specchiare? Scusa qui non ho avuto un altro piano di sotto Ah, questo dogmat sembra meglio che l'occhio del proprietario Dettagli Il cane va sempre privilegiato Ah, Gesù Maria, vedi non riesco Dimentico di tenere premuto Povero da sparo, quindi dovrò farmi le pallotte pure io Tutti gli indizi trovati Combina gli indizi per fare deluzioni Albert è tornato instabile Ok, questo è così Fatto Manca uno dei pescatori, c'erano tre pescatori che credo Ok Posso rintrasciare Albert Ok Dobbiamo guardare le tracce da su, però Oh, ok Oh, sì Hai un proiettile? Hai un proiettile? Non ho comito in giorni Ti sembra familiar, ma l'ultimo Billy non ti ha visto Forse perché ho bevuto troppo Vecchia spugna Vecchia Bill spugna Stai alert, i monstri rinforzano all'interno Sono ovunque No, come mi ha impiegato da suonare? No, come mi ha impiegato da suonare? Questo non dice niente Venite, venite più vicino, il problema del sole Mi racconta cosa il tuo futuro ha avuto Tu sei un tipo di fortuna Sì, mio amore Sì Oh, è così chiaro Il tuo passaggio ha avuto molti sorrisi Newcomer Seems a little generic, don't you think? Hmm I see many things, boy And I will tell you them in detail For a small fee All right, how much? A dollar? Ha 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 Your money has no value here, newcomer After the flood Oakmonters deal in the practical Booze, smokes, and bullets And I'll make it easier for you I don't smoke All right Let's see what my future holds Good Let me focus Let me focus The sea will be generous in the coming days Many gifts delivered And many will regret partaking I don't think I follow I don't think I follow I see old and new A hard heart against an iron will Whoever wins You win too But you'll only see that from inside A metal cage And, and tall pillars Circled by the dead A race from one to the next As time itself laughs I think I'd like my bullet back Noooo It is what it is The truth will out soon Me I Just caught in early glimpse Ah Why do I feel like I got scammed? Embrace your fate Destino tentatore Scini vanno avanti a proiettili e Tavacco e fumo Ok Mi piace che posso andare liberamente qui E ne sono un batteciglio Mom Gregory Cosa I can still hear those voices Sì, ma non è nulla Andiamo Andiamo Per seguirlo Da questa parte Da questa parte Lo troverò Sì, lo troverò Quindi, lo pesce ha persociato Albert Ancora, anche lasciato qualche scopo Andiamo a questa parte Aspettiamo che è andato qui Ok, è andato di qui Figa la visione Ma ragazzi Vabbè chissate un po' per il fornimento Oh Gesù Maria Livis per favore Dammi un'altra, solo un'altra se sto vivendo Non voglio essere andato qui Cosa sono queste veste? Oh Gesù E la carne è fresca, qualsiasi che si apprezzasse non potrebbe arrivare a farlo per me sotto e chi vuoi? ecco lo so per dove vai di sotto devo preparare aspetta perchè magari c'è roba non lo so non so cosa ci potrebbe essere di sotto ok sono a carico, nel caso aspetta per ora ah ok l'attacco corpo a corpo ci sta sempre Scendiamo una luccetta. Analizziamo bene. Lucchetti. Bobbino, probabilmente la sua robossa è riparto giù qui. La porta non si tratta. Come apro? Non ho premuto per ulteriori informazioni. Ma non è che posso sparare lucchetto? Sì! Oh, Dio. Fuglia di essere il cielo. Oh, Gesù! Queste stronzate sembra uscite dalla cosa. Schifo. Dio mio. Questa? Ah, mi sono morta, vabbè. Ma cacciamiserie. Sembrano uscite dalla cosa. VI PIACE! Quindi si è impiccato. È il figlio questo. Ah, ok, si è liquofato tipo. Un'altra volta fatta sull'occhio. Non è accidente. Questo era deliberato. Un'altra volta fatta sull'occhio. Non è accidente. Lì si è trovato. Questo era deliberato. Il palazzo mentale per ridire tutte le cose. Allora, deduzione. Ok. Non è andato. Non è stato ferito. Quindi ora devo andare al bar Lo vuoi molto, i cosi di torti Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance I found the note about your debt to Louis near his cold dead body And it looks like Louis murdered Robert's kid You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me At best you're harboring a criminal At worst you're an accessory to murder I... What? No I ain't done nothing Tell that to Mr. Throgmorton No No Throg Louis is upstairs Here's the key Smart man There's your good deed for the day I've seen some Unsettling creatures around Like nothing I've ever encountered What are they? So you met a wild beast newcomer No one knows what they are But consider yourself lucky to still be at one piece They arrived in the flood Some say they come from the sea Others that they are Kay's punishment for us And what do you say? If it bleeds you can kill it Keep your gun handy And if you want to erase the memory I sell the perfect cure right here Remember Better to be a coward and live Than brave and dead Unless you're a newcomer Bye Bye La chiedo del barista Ok, ora posso andare pieno di sopra Parlare Parlare Al minimo o si è ammazzato O ci sarà raccolutazione Scontrafuoco Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator Mr. Throg Morton hired me to find his son Albert So I think you know why I'm here Throg That darn bartender It was all that crazy ape's fault You hear me? Calm down I only want to speak for now But no, if you reach for your gun You'll hit the floor faster than you can say poetic justice I got nothing to hide You shot to kill No warning, no second chances You pursued Albert even after he fled Why? I I can't remember it When he woke It was like a A bloody mist Descended over me First thing I recall After her Is that darn warehouse And me Covered in blood I had no idea what happened Though I suspected it had something to do with that ape Turns out I was right Why do you see this aspect? What the hell? Why do you Your face It's Oh, so you're here to attack me Just because I look different to you Me You wanna spit on me? Whisper to your friends? What's new? No, no I'm sorry I I didn't know how to ask I've just Never met someone like you before I didn't mean any offense Innsmouthers' bodies Were blessed by the she You're gonna see a lot of us here So you better get over it We are proud of who we are Start at the beginning What happened? We We were in our house We were in our house We were in our house Barry gone to the sea Though I told him that it would only bring bad luck If he listened to me we'd all still be alive Come on, Lewis Focus Right Well Barry dragged that damn ape to our house He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son But that ape He was out cold Then woke in an instant and started screaming and attacking us After that Can't remember a thing I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons Care to fill me in? Those apes hated us From the moment we arrived at Oakmont Our home was destroyed We just needed a place to stay The Blackwood Grand Family sheltered us But others were not as hospitable We needed jobs, food, medicine The city denied it all And so? We had to fight for every crumb of bread And those Throgmortons in their high castle Only made our life harder Always conspiring behind our backs Always setting people against us I'd love to see them suffer like we suffered You mentioned a grand family What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot Yeah, a newcomer with a gun Answer the question Okay People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation The headhantos of Oakmont are called the Grand Families There's the Carpenters who control most of the city's underworld The Blackwoods who share kin with Innsmouthers through the Marsh family And let me guess The Throgmortons Right Those filthy apes Now that most of the Blackwoods are gone There's nobody left to protect us Innsmouthers The things you did to Albert don't look like a bloody rage A fatal shot to the head A hidden body One might start to wonder if it was deliberate I don't know what to say I wasn't myself I think I've got all I need Please, Mr. Reeves Don't tell Throgmorton about me I know I'm in no position to ask I didn't want to do whatever it is Yes, I did Honest Have mercy, please I have a family Without me, they'll starve This is not exactly cut and dry I need some time to think Perhaps I can offer something to grease your grinds I still have a few bullets on me You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed Now, don't try my patience further Mr. Flynn Please, I've told you the truth, I swear And then, if that's because I don't know the truth I'm gonna lose him Yeah... Yes, but You can see F si ripercuotranno sulla trama sicuramente perchè allora se glielo dico magari lui mi aiuterà con le mie indagini e tutto però se non glielo dico invece non so se sono copro o probabilmente succederà dell'altro Mr. Throgmorton, ehm, ho incontrato qualcosa Che cosa? Non ho tutto il giorno alcuni, ehm, imparati creature e sicuramente non erano amici Si, non lo so, ma cosa? Voi senti un po' di biazza, Mr. Reed Mi sono un po' di sorpresa di vedere ti ancora vivi Quelle cose che siavano dopo la pilla ? Ho fatto alcuni studiati sui Ma non lo so, ma non lo so 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 Ma non lo so I'm afraid I have bad news No Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse I'm sorry, but he was murdered Shot in the head and the body hidden No It cannot be true No, no, no I don't believe it No I've tracked down your son's murderer Where? Who is he? Just as I suspected The Innsmouth or Louis is responsible for your son's murder He's hiding at the local bar Just ask the bartender Seems like he had a bone to pick with your family And took it out on Albert Oh, that scum won't be getting off easy The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons Justice Bittersweet as it is Shall be served It's rare for a newcomer to make himself so useful Thank you Mr. Throgmorton I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes You've earned it K to think a newcomer barely off the boat Solves a crime the police couldn't But I digress Remind me I'm looking into an outbreak of erratic behavior and madness All linked to shared visions of this place Indeed Then our goals align This inexplicable hysteria has spread through Ogmont after the flood I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible A geological expedition I'm not sure I follow I have reason to believe the flood and this madness of the same source As above, so below So I sent men to find out You mentioned the flood You think it's more than just a natural disaster You weren't here, Mr. Reed What happened? Defied scientific explanation Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself Waterlogged ruins with unnatural architecture A sleeping giant drowned streets And a voice calming from the depths Her words, exactly She proposed the expedition Desperately wanting to find the cause Has your expedition found anything? I do not know Albert is... Albert was part of it His passing cannot be coincidence Why was he alone at the port? And where are the others? Do you think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week that Albert The only one I could trust Comes ashore and is killed It does sound suspicious Mr. Reed I want you to find out what's going on I expect you're as interested in the expedition's results as I am What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task And of course You've earned some compensation for your work here at the port I'll also include a fair advance in bullets Uh, bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed After the flood Oakmont returned to bartering Bullets mean more than bills If I'm going to look into this I'll need to know more Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters And a key That's all you can tell me? Let me be clear, Reed Do not speak to me like that again I'm sorry, Mr. Throckmorton I just meant the more I know The better I'm a busy man I've funded the research But left all preparations To Professor Doe and Albert When you finish Come see me at the Throckmorton family manor It's in Old Grove Here, I'll show you Ragazzi, io direi che come primo let's play esplorativo Ci sta alla stragrande Spero vi sia piaciuto Supportate un botto con i vostri like e commenti Ditemi che ne pensate Perché sono molto curioso di sapere il vostro punto di vista Ovviamente il gioco deve ancora, diciamo, implodere Nel senso che molto più avanti ovviamente c'è un botto di scontri a fuoco E la situazione mi precipiterà Adesso, secondo me, è solo, capito, un antipastino, no? Quindi, ci vediamo con la seconda parte Probabilmente a questa parte ve la pubblicherò attorno alle 13 più o meno Devo controllare bene gli orari di embargo Il 13 del 25 giugno Se l'ho trovata a quell'ora Vuol dire che la seconda parte arriverà verso le 16 più o meno Dipende dalla quantità di like e commenti Dovete spaccare, mi raccomando Grazie a tutti Ci vediamo alla seconda parte Ciao! 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 Ciao!